Oggi 15 febbraio 2023, ho cambiato stazione, sento gli annunci, ecco un altro annuncio. Ma sono alla stazione di Milano-Lambrac, il binario 11 c'è il treno che va per Parma. Io oggi dovevo andare a Bergamo, poi ogni tanto cancellano qualche treno, non c'è problema. Sono arrivato qua alla stazione di Lambrate, eccola là la bacchecca. Sento gli annunci e alle 12.27 ho il treno per Cremona-Mantova, non c'è problema, il binario 11. Oggi ho cambiato rotta per il fatto che non mi sono ben organizzato nel prendere il treno. Oggi, dopo aver visto la stazione centrale, la stazione di Porta Caribaldi, sono qua alla stazione di Lambrate dopo aver trascorso un certo periodo. Io mi trovo bene in tutte le stazioni, l'importante è viaggiare. Eccola di fronte la bacchecca, il binario 11 c'è il treno per Parma. Poi farò il tre, il biglietto Promotour e la prossima volta posso andare oltre la Lombardia, risparmiando anche i pur soldi in senso economico. Vi saluto dalla stazione di Lambrate e sto aspettando questo treno per direzione Parma. Però oggi non lo prendo, prendo soprattutto il treno per Mantova. Andrò ancora a pizzichettone perché mi piace l'atmosfera di quella stazione dell'abbandono, di quella stazione del passato, dove tre o quattro mesi fa andavo spesse volte. Ogni tanto ritorno a ripetere le stesse gite per il fatto che io mi affeziono soprattutto ai luoghi, ai luoghi abitativi Aldo alla stazione di Milano Lambrate.